Buonasera ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video dove andremo a fare le estrazioni del nuovo campionato che partirà praticamente domani su Formula1ItalianTeam.com Campionato molto molto interessante, correremo con la BMW M3 Group A, quindi macchina ad altri tempi soprattutto correremo ad assetto bloccato, ci sarà una gara ogni due settimane e ci saranno 8 appuntamenti ogni 14 giorni, ogni lunedì, partiamo proprio domani con il Red Bull Ring poi ci sarà Monza, Brno, Il Fuji, Hockenheim Classic, Ban Ockbre, Alton Park e in conclusione Snatterton Cosa andremo a fare oggi? Andiamo a comporre quelle che saranno poi le squadre che andranno a correre questo fantastico campionato che si caratterizza anche per la Super Pole, quindi ogni pilota per conquistare la Pole Position avrà a disposizione un solo giro per poter mettere a segno il giro più veloce che potrà farlo scattare poi dalla prima casella Allora, partiamo, direi che le spiegazioni sono pochissime Abbiamo una prima urna con i primi sei piloti e una seconda urna con gli altri ragazzi Adesso vado ad estrarre prima un bussolotto dal cestino dei Pro e uno invece poi dagli AM Direi che possiamo partire Attenzione sale E partiamo Il primo pilota estratto è Trueno Snake Il primo pilota che va a essere inserito sul tabellone Adesso andiamo a capire chi sarà il suo compagno Il secondo pilota che va a completare la squadra è Mediano Apertura Un grande ritorno per la comunità di Fit Sono contentissimi di riaverlo tra noi Adesso andiamo a vedere chi è il prossimo Kuntra Kuntra è il secondo prova estratto Che farà coppia con Una mischiata Farà coppia con Marcolino 91 Quindi si ripete La coppia storica Terzo pilota estratto Terzo pilota estratto è Samp 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 invece sarà in squadra con Evo Evo 5GT Samp e Evo Compagni di squadra Andiamo avanti La rapida estrazione Crisotto Crisotto estratto Per lui prima volta la testa di serie Bravo Crisotto Andiamo oltre Crisotto avrà come compagno di squadra Tasket Anche per lui primo campionato ufficiale Dopo aver fatto qualche comparsa Al Al Porsche Ma aver partecipato All'Interforum Che siamo riusciti a vincere Sarà in coppia con Crisotto Mentre il penultimo pro estratto è Cree Cree E senza mischiare Andiamo a far vedere che tutto si è svolto nel modo più corretto Abbiamo Clinico 46 Che farà coppia con Dapp Console Planet Ragazzi Le coppie sono state fatte Abbiamo Tureno Snake Commedia in apertura Contra con Marco Lino Sampevo GT Crisotto e Tasket Cree e Mr. X E Crinicov con Dapp Console Planet L'appuntamento è a domani sera Mi raccomando Seguiteci Solo su Fit L'appuntamento è a domani